Oh, la campanella! Benvenuti, bambini! Oggi impareremo a conoscere le professioni! Iniziamo! Che cos'è questo? È un dottore. È un ananas. Ottimo lavoro, Jason! Sbagliato, Alex! E questo che cos'è? È un pilota. Ah, è un pomodoro per caso? Bene, Jason! Sbagliato, Alex! È un pilota! Oh, sì, è vero. È un pilota. Ehi, Alex, tu hai sonno? Sì, ho un sacco di sonno. Perché non dormiamo allora? Sì, va bene. Il prossimo! Che cos'è questo? Ragazzi? State dormendo? Ragazzi! Rispondete alla mia domanda, per favore! So cosa fare! Giochiamo alla sfida dei cento pulsanti! Iniziamo! La sfida dei cento pulsanti! Cosa? La sfida dei cento pulsanti? Sì! Iniziamo con la sfida dei cento pulsanti! Divertitevi! Wow! Quanti pontoni! Bello! Inizierò a premere un pulsante, sapete? Lo schiaccerò adesso. Questo qui? Oh! Wow! Quante palline! Forte, Jason! È stato divertente! Fallo, Alex! Ok, va bene. Tocca a me! Oh, sì! Tocca a me, ragazzi! Quale scelgo, ragazzi? Sceglierò questo qui. Wow! Quante stelle pilanti! Mio Dio, sono sommerso! Ora, Jason, tocca a te! Sì! Tocca a me ora! Bene, ma che cosa premo? Questo! Dov'erano tutte queste carte? Wow! Che carte enormi! È stato bellissimo! Ok, ora tocca a me! Ora tocca a me! Quale bottone devo premere? Prenderò questo! Wow! Oh, wow! Oh, oh, oh! Che bello! Oh, ah, ah! Oh, wow! Oh, basta però! Basta! Eeeh, quante tazze! Erano proprio tante tazze! Succo d'arancia! Succo di mela! Jason, forza! Tocca a te! È il mio turno! Ora tocca a me! Quale pulsante premo? Premo questo! Premo questo! Wow! Soldi! Ottimo pulsante, Jason! Grazie! Ora tocca a me! È il mio turno! Oh, ci sono dei soldi qui dentro! Ma sono soldi falsi! Ma che bottone premo, ragazzi? Ditemi un po'! Sì! Oh, oh, oh! Wow! Wow, occhiali! Oh! Occhiali da coniglio! Occhiali da sole! Ma quanto sono belli! O forse sono meglio questi, ragazzi! Wow! Ora tocca a me! Che belli! Togliamoli! Ora tocca a me, ragazzi! Ma le sceglierò! Questo qua! Non ci credo cos'è! Guardate, sono Bobbitt! Sono Bobbitt! Io amo i Bobbitt! Bobbi, 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 Bobbitt! Oh, che piccata, sì! Questo è il mio preferito finora! Adesso tocca a me! Ora tocca a me, ragazzi! Ma voglio qualcosa di davvero divertente! Premerò questo! Cos'è? Allora? Oh, oh, oh! Ma cos'è? Oh, no! Non lo voglio! È solo un po' di neve! Wow! Wow! È il mio turno! È l'ultimo pulsante, ragazzi! Quale premo? Questo qui! Ragazzi, pop-corn! Gustosi! Sono i miei preferiti! Wow! Pop-corn! Li amo! Alex, un'issuti a me! Forza! Sì, wow! Prenderò dei pop-corn! È stata proprio una bella sfida, non è vero? È stata una giornata davvero molto divertente! Grazie per averci seguito! Non dimenticate di iscrivervi! Ciao, ragazzi! Io sono cool! Sono super cool! Costruiamolo bene, sì! Che bello! Oh, no! Sono in ritardo! L'insegnante è in ritardo, Jason! Mi dispiace, sono in ritardo, ragazzi! Iniziamo la lezione! Bambini? Bambini? Non vedo nessun bambino! Dove sono? Salve, insegnante! Che cosa insegna? Voglio imparare un sacco di cose! Essere intelligenti è cool! Ragazzi, toglietemi gli occhiali da sole, per favore! Oh, chiedo scusa, insegnante! Oh, chiedo scusa, insegnante! Userò gli occhiali da lettura, sì! Impariamo a conoscere gli animali! Che animale è questo? Un leone! Uno spazzolino, prof! Ottimo lavoro, Jason! Un leone! Sbagliato, Alex! E come si chiama questo animale? Simmia! Sono delle scarpe? Ottimo lavoro, Jason! È una scimmia! Oh, grazie! Sbagliato, Alex! E come si chiama questo animale? Si chiama elefante! Ma è un aereo, ovvio! Bene, Jason! Questo è un elefante! Sì, certo, lo sapevo! Sbagliato, Alex! E ora l'ultimo animale! Cavallo! Ottimo lavoro, è un cavallo! Forse è un cavallo? Finalmente! Bene, Alex! Sì, che bello! Ho indovinato proprio tutto, ragazzi! Sì! Bene! È il momento della prossima lezione! Impareremo qualcosa di veramente divertente! Che cosa impareremo, prof? Impareremo a conoscere i broccoli! Impareremo a conoscere i veicoli! Come si chiama questo veicolo? Lo so! È una Lamborghini! È un aereo! Esatto, un aereo! Come si chiama questo veicolo? È una grandiosa mucca, sì? No, Alex! È un camion! Bene, Jason! E questo veicolo, invece? Wow! È una macchina! È una macchina! Questa la so! Proprio così! È una macchina! Sì! Sì! È il momento della prossima lezione! Ok, Jason! Impareremo i colori con questi pensanti! Questo è arancione e questo è verde! Ti farà delle domande! Solo due bottoni, ragazzi! Io ne ho un intero zaino! Cento bottoni! Meglio, no? Wow! Sono un sacco di bottoni! Wow! Mi siedo con te, Jason! Mi piace, sì! Facciamo clic su un pulsante! Va bene! Wow! È verde! Arancioni! Wow! Ora blu! Wow! Sì! Viola, adesso! Wow! È stato fantastico, ragazzi! Ci vediamo domani! Grazie, insegnante! Ci vediamo domani! Iscrivetevi a Jason Vlogs, ragazzi! Iscrivetevi ora! Oh no! Che sta succedendo? Che succede, amici? Che succede? Oh no! Wow! Che cos'è? Wow! Ma che cos'è questo zaino? Come è arrivato qui? Beh, sapete? Lo proverò! Ha proprio un bell'aspetto! Oh! Che forti! Ragazzi, che dovrei mangiare? Ho so che fare con questo zaino! Oh! Delle banane! Wow! Jason, vieni a giocare con me! Ciao, Jason! Ciao! Oh, sei! Oh, quattro! Ehi, Jason! Che ne dici di andare al campo sportivo? È proprio una buona idea! Ma come ci arriviamo, Jason? Guarda, c'è una borsa! Vediamo cosa c'è dentro! Teletrasporti! Teletrasportiamoci! Wow! Andiamo al campo sportivo! Wow! Siamo al campo sportivo! Siamo stati velocissimi, ragazzi! Va bene! Jason, giochiamo! Va bene! Giochiamo insieme! Aspetta un attimo! Ma come si gioca? Dove sono le racchette da tennis? Ce ne siamo dimenticati! Oh, no! Fammi pensare! Wow! Guarda nello zaino! Cosa intendi dire? Che sono qui, ovvio! Oh, racchette da tennis! Esattamente! Come le hai portate qui? Non lo so! Wow! Grazie, Jason! Giochiamo! Bene! Oh, buona questa! Wow! Sì! Giochiamo per la strada! Vado io per prima, Jason? No, andrò io per primo, Sara! No, tocca a me, Jason! E va bene, pazzi per prima! Yuppie! Oh, no! Questo fa male! Sara! Ah! Il mio braccio! Oh, stai bene, Sara! No! Il braccio mi fa davvero male! Lo zaino! Sì, userò questa! Ti aiuterò, Sara! Spero che tu ti senta meglio! Oh, wow! Grazie mille, Jason! Non c'è di che, Sara! Vado ora! Grazie! Wow! Questo zaino deve fare proprio molte magie! Ho una grande idea! Chiederò molti giocattoli, ragazzi! Wow! È così grande! E guardate! C'è anche una simmia! Eppure una matita piena di smile! Non ci credo anche una paletta! Quanti giocattoli, ragazzi! Oh, no! Che cosa succede? Oh, no! Oh, no! Ma che cosa sta succedendo? Oh, no! Ragazzi, è meglio andare via di qui!